Il sole e il vento del nord Un giorno il sole e il vento del nord decisero di litigare. Sono più forte di te, disse il vento al sole. Niente affatto, rispose l'altro, e così decisero di sfidarsi in una prova di forza. Vedendo un uomo camminare lungo il sentiero, il vento disse. Il primo tra noi che riuscirà a spogliare quell'uomo sarà il più forte. E il sole accettò. Il vento del nord prese a soffiare contro il viandante con tutta la sua forza. Ma quello sentendo il freddo e il vento tirò fuori dalla sua sacca un mantello per coprirsi. Il vento infuriato soffiò ancora più forte. Il viandante prese anche una sciarpa ed un cappello. Poi toccò al sole, che cominciò a risplendere scaldando la terra. Il viandante, per il caldo, ripose la sciarpa, il cappello e il mantello. Il sole intensificò i suoi raggi, finché non divennero bollenti. L'uomo che era arrivato nei pressi di un fiume non resisteva più a quel caldo. Così si spogliò e si buttò in acqua. La persuasione spesso è più forte della violenza.